Siamo noi la famiglia Hey, come state? Nel video di oggi il piccolo leone come un vero artista mostra il suo disegno a mamma Chiara e racconta cosa rappresentano Nel pomeriggio insieme alla sorellina Vittoria si dirigono al parco Vi lascio il video, buona visione Questo è Leo con la sua opera d'arte, come la chiami? Punti Punti, bellissima Questa è stupenda, questa come si chiama? S S Perché è forma S Giusto Vitto, Vittoria Ciao amore Ciao Vieni a fare caffezito? Sì Caffezito, caffezito, ye 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 Ciao, dammi un abbraccio forte alla tua mamma Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale Ciao Ciao